Tutti a scuola in sicurezza o meglio così ci si augura in una convivenza quanto più serena con il Covid. Se i presidi e i vari enti hanno messo in campo tutte le misure anti-coronavirus, c'è la certezza o almeno la speranza di una scuola in presenza senza problemi? L'abbiamo chiesto al direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ASL di pescare il professor Paolo Fazzi. Allora la situazione è questa, un po' ci preoccupa perché nel mondo scuola ovviamente si vanno ad abbreviare i rapporti, gli spazi che ci sono fra le persone, ovviamente molti di questi studenti alunni vanno a scuola con gli autobus, quindi dove c'è ovviamente difficilmente si riesce a trovare uno spazio congruo fra un soggetto ed un altro. Poi c'è un altro dato che dai 12 ai 18 anni solamente il 40% è vaccinato e dopo sotto i 12 anni nessuno. Di contro però c'è, ci sono delle norme che si sono date a livello scolastico, ad esempio il personale che lavora a scuola deve essere vaccinato, prima cosa positiva, e poi le mascherine. So che tutti quanti dovranno avere delle mascherine e anche la banale mascherina chirurgica, se è indossata in maniera ovviamente corretta, garantisce dalla circolazione del virus, perché se un soggetto in quel momento alberga il virus a livello delle proprie mucose, la mascherina chirurgica praticamente forma una specie di barriera insuperabile. Quindi se tutti portano in autobus o anche soprattutto a scuola anche la mascherina chirurgica, anche quella può essere sufficiente, purché cambiata ogni 4-5 ore, perché sappiamo che dopo 4-5 ore l'effetto filtro non c'è più. Secondo lei però i contagi potrebbero aumentare? Sì, secondo me i contagi potrebbero aumentare perché si va verso la stagione fredda che favorisce la circolazione del virus, però avremo un menor numero di ospedalizzati, un menor numero di decessi, perché c'è parecchia gente che si è vaccinata, spero che quella gran parte dei soggetti oltre 50 anni non vaccinati lo faccia nel più breve tempo possibile, perché ovviamente sono quel setting di popolazione più a rischio, quindi sono abbastanza fiducioso, pur nella considerazione che questa virosi, fin tanto che non ci si vaccinerà tutti nel mondo, rimarrà ancora per molto tempo. Ma una cura la si troverà o no? Allora, con i virus noi possiamo combattere i virus solamente con il vaccino al momento. C'è un gruppo di virus che sono gli herpes virus, che in gran parte possono essere aggrediti direttamente da un antivirale specifico, ma pochi altri sono i virus dove noi abbiamo a disposizione un antivirale specifico. Per SARS-CoV-2 non c'è, però so che si stanno muovendo a livello internazionale, a tutti i livelli, per cercare di trovare una soluzione, quindi un antivirale specifico contro SARS-CoV-2. Al momento però non c'è. Professore, un'altra curiosità che ci domandano spesso, ma i vaccini quanto tempo durano? Allora, bisogna fare un discorso un pochettino più generale. Quando un microorganismo si incontra con un ospite, allora quindi facciamo proprio l'esempio di SARS-CoV-2 che si incontra con l'ospite Homo sapiens sapiens. Allora, l'interazione fra i due organismi, microorganismi e ospite, genera la produzione di anticorpi e di cellule della memoria. Ora, si è visto che per questo tipo di virus, di coronavirus, così come per molti altri virus respiratori, ad esempio influenza virus, purtroppo l'immunità tende a decadere e quindi probabilmente dopo 9-12 mesi ritorniamo ad essere scoperti. Ecco il motivo per cui, ad esempio, per influenzare i virus si deve vaccinare ogni anno. Dicevo interazione specifica tra microorganismo e ospite, perché ad esempio se noi veniamo a contatto con il virus del morbillo si genera un sistema immune anti-morbillo con una mediana di 47,5 anni, il che significa che praticamente un soggetto che è venuto a contatto con il morbillo rimane immune a vita. Quindi purtroppo solitamente i virus di raffreddamento non generano un'immunità permanente, per cui dovremmo vaccinarci tutti quanti una volta ogni anno fin tanto che questo virus rimarrà così virulento. Grazie a tutti.